Tutti in campo sul fronte dell'emergenza ma si lavora anche per il futuro. A dirlo il sindaco Pizzarotti, il comune, al lavoro sul ridimensionamento delle imposte locali nelle zone colpite. Allo studio ci sono anche aiuti economici. La stessa cosa aveva annunciato il governo che ha deciso per Parma lo slittamento delle scadenze delle imposte statali. La prossima settimana sarà poi attivato un tavolo con comune, regione, provincia, Aipo e altri comuni per fare il punto sulla cassa di espansione sul Baganza, progetto, risorse economiche e tempistiche. In queste ore però continuano gli interventi nel quartiere Montanara martoriato dall'esondazione. Dalla protezione civile fanno sapere che mancano guanti in cuoio per le operazioni di pulizia. Chi ne avesse la disponibilità può consegnargli alla sede della protezione civile in via del taglio. Tante sono state le donazioni e gli aiuti, stivali, pale e secchi. Irene è stata incessantemente in azione per rimuovere gli arredi danneggiati e per riattivare gli ultimi civici senza elettricità. Al momento ne rimangono circa 150 che dovrebbero essere ricollegati entro sera. Vigili del fuoco e protezione civile, dipendenti comunali, Parma Infrastrutture e Global Vari rimangono attivi in tutta la zona per pompare acque, rimuovere auto e detriti. Dal comune ricordano che è importante per i prossimi giorni lasciare le auto fuori dalle strade coperte ancora di fango per velocizzare i lavori di pulizia. Opportuno lasciarle nelle vie già ripulite, anche se appena più lontane da casa. Infine la polemica sul blackout telefonico. Feder Consumatori di Parma, insieme alle sedi di altre città emiliane, punta il dito su quel guasto che ha provocato l'isolamento delle comunicazioni, impedendo addirittura la possibilità di contattare servizi di emergenza come il 118. Pur trattandosi di un evento per la città di Parma di carattere straordinario, dice un comunicato, si è evidenziata una fragilità nel sistema. Da qui la richiesta di un incontro urgente a Telecom per un'analisi dei fatti e per una valutazione dei profondi disagi patiti dai cittadini e dagli utenti.